buon pomeriggio buon pomeriggio a rigorosamente in diretta purtroppo 10 minuti di ritardo il caffè di live bianconera posso farvi una piccola considerazione perché me l'avete detto anche nel disco da sto punto ne parliamo durante la sosta qualcuno mi ha detto porta in live EA Sports FC però vi posso dire questo che se io lo portassi veramente come contenuto extra per Twitch la mia attività da gamer di EA Sports colui che me l'ha chiesto deve sapere che io non è che sono zano agli altri che bestemmiano una volta bestemmio per 10 volte dico di tutto contro chi affronto e quindi sarebbe una cosa bruttissima però questa settimana per quanto mi riguarda l'ho passata con questi maledetti 45 punti che ho fatto con ste cazzo di rivals e quindi sarebbe apprezzatissimo no ragazzi ma auguro le cose brutte chi affronto tra l'altro senza voler cioè voglio dire poi alla fine è chiaro che è una roba che dura 30 secondi e poi uno si calma però in quei 30 secondi sono cattivissimo sono veramente cattivo sono veramente cattivo sì sì sono ma sono il masseo per 20 sono il masseo per 20 credetemi ragazzi dico di tutto dico di tutto soprattutto contro i cosiddetti try harder no che fanno delle robe che rendono il gioco orribile che rendono il gioco brutto un gioco che anche può essere stimolante eccetera però questi questi imbecilli questi stronzi rendono il gioco bruttissimo va bene salutiamo i ragazzi che sono in diretta sulla chat ciao Zyuan il primo che è arrivato ciao RepartaBS ciao Dualipismo e se la prende con me va bene ciao ragazzoni ciao Samuele ancora Pierasco Space Cat Matlore Paolo Juven 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 ciao c'è chi dice no però mette una bandierina di Juventibus ma non è che si fanno la sub a live bianconera come dice la sigla no se la danno da Zampini che schifo va bene ciao TNT ma Vlavic non spalma questo fa il botto altra pressione ne parleremo ciao Simon spalma solo la Nutella HTD ciao ciao JJ Kamal ciao Goodelps c'è la prima sub di JJ Kamal grazie mille grazie mille ragazzo che vive in France quindi lo ringraziamo particolarmente qualcuno che ci segue anche dall'estero dai che tra un po' è Natale beh manca un po' ancora dai ma no in realtà mancano tre mesi esatti esatto 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 vediamo chi c'è ancora Grezi ciao Andrea Andreina mettiamo un moderatore con il no ragazzi no 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 ma non basta il moderatore ragazzi dico cose bruttissime dico cose bruttissime veramente di cui mi pento amaramente ma sono quei venti secondi ripeto di follia durante il gioco il direttore o noi in Maseo ciao Mago da Segrate ciao HTD e ciao a tutti quanti abbiamo salutato tutti benissimo 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 con la quota dell'esame che è 318 su obiettivo c'è anche la sala di Donato grazie 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 all'amico Donato 319 grazie di cuore tra l'altro presto vienrai magari vieni ospite facciamo un bel discorsetto sulla Juventus perché no grazie mille ciao Slevin e ciao a tutti allora da dove vogliamo Donato Donato da dove vogliamo partire ragazzi io non voglio giocarmi l'argomento Blavis che mi ha anche un po' rotti i coglioni devo dirvi la verità subito 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 altra sub grande Banzai novantotto grazie mille 320 ne mancano 122 dai ragazzi 50 che ne regala uno 50 un altro e poi gli ultimi giorni di follia grazie Banzai quanto fai con noi 23 mesi allora aspetta Donato ci scrive direttamente l'ho scritto se ho il Virmone ieri per invitarvi a una chiacchierata sul canale in vista della prossima ma sì 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 perché no io ci sono quando vuoi ci sono compatibilmente all'orario del caffè questa purtroppo purtroppo per fortuna è l'ora del caffè e quindi siamo siamo pronti per altri slot orari sublau c'è macchina del fango immagino si riferisca alla roba del contratto tra l'altro io vedo una sedia vuota ancora una volta sedia vuota guardate qua io metterei a schermo solo questa sedia vedete anche la tazzina di LB un libro di Stephen King Watchmen ma una sedia vuota con una maglia con una t-shirt anche appoggiata sopra questa questa sedia di questo studio di un grande intellettuale italiano il signor Kraft il signor Kraft il signor Kraft che è in diretta eccoci qui possiamo fare la live tutta così che io commento sotto va bene va bene va bene va bene legge ma che posso dire secondo me secondo me quella di Kraft è una è una è una biblioteca finta di quelle che si comprano su Amazon per fare colpo insomma non è vera secondo me quella biblioteca che c'ha quella libreria che c'ha va bene adesso spunta tutto nudo sarebbe sarebbe un contenuto di OnlyFans che chiaramente dovreste pagare un po' di più la protesta della minoranza ma in realtà ormai sono maggioranza figurati scenografia d'avvocato Zampini che c'entra Zampini sta preparando il tè sta preparando il tè aspetta 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 mo lo chiamo aspetta aspettate un attimo Kraft Kraft dove cazzo stai niente non sente non sente nulla non sente è uno sfondo di cacca dice ma beh sì ma secondo me è falsa secondo me è falsa è falsa sicuro ma sicuro intellettuale della magna grecia e chi è De Mita è vabbè effettivamente la zona è quella Kraft sono falsi libri sta scrivendo poesia ciao buon pomeriggio va bene c'è una sub di un moderatore grazie mille Antonino grazie 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 321 grazie di cuore per la sub alle 16 arriva anche Virmone ragazzi è uno sfondo da se no dai killer no dai sta scrivendo una missiva a calenda ci vorrebbe Kraft con la cravatta trasparente e va bene e va bene e va bene lo aspettiamo lo aspettiamo perché come di dove Campano è Campano Sir Kraft Campano ecco perché è un intellettuale della magna della magna grecia come era De Mita negli anni 80 ex segretario della DC allora allora io voglio aprire con una cosa che è una mia battaglia voglio aprire con una mia grande battaglia io oserei dire che è una battaglia di civiltà del calcio una battaglia di civiltà del gioco del calcio che finalmente qualcuno la fa propria qualcuno sicuramente un esponente sicuramente più importante del sottoscritto più importante dell'attività che svolgiamo noi all'AE Bianconera ma se lo dice Gary Neville se lo dice Gary Neville volete dare retta a Gary Neville guardate un po' qua guardate un po' qua oh Gary Neville la pazza idea ma non è pazza non è pazza questa idea basta pareggi che si vada ai rigori anche in campionato sono d'accordo che cos'è il pareggio una squadra che fa il 20% di possesso palla e fa 0 a 0 merita di fare pareggio secondo voi è una vergogna del calcio questa è una vergogna del calcio no 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 come un'idea di merda e allora come una minchia ma non capite un cazzo non capite nulla non capite assolutamente nulla con i rigori le piccole si chiudono ancora di più ma dipende 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 io no siete i contrari non merita nemmeno di vincere i rigori non siamo in a me ma che cazzo vuol dire ma ragazzi ma che cos'è ma scusate scusate che cos'è che cos'è il pareggio io ripeto ancora è una battaglia che me la porterò dietro per 20 anni porca puttana che cos'è sportivamente parlando sportivamente che cosa mi rappresenta il pareggio una squadra anche lo 0,1% di cosa in più l'avrà fatta o no l'avrà fatta o no che cos'è il pareggio che cos'è il pareggio è una roba indegna il pareggio indegna il pareggio poi si può discutere si può se si va ai rigori se si va agli shout out se si va su altre soluzioni su altre soluzioni ma il pareggio in un è vergognoso il pareggio il pareggio è vergognoso il pareggio è vergognoso vediamo i rigori non premiano ma scusate i rigori anche i rigori sono un'abilità i rigori sono un'abilità bisogna essere bravi a tirare i rigori o no o sbaglio per se facciamo gli shout out bisogna essere bravi a tirare gli shout out se verrà segnata la vittoria a chi ha tirato più in porta vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa di più o sbaglio ma lo chiediamo al signor Virmone che secondo me è d'accordo anche col sottoscritto perché ne parlava ieri ciao Virmone buon pomeriggio ciao Fabio scusate il ritardo io non ti preoccupare perché ho ritardato ho ritardato anche io quindi non ti preoccupare io ho letto ma di che si parla no ieri Gary Neville appoggia una battaglia storica di lei bianconera basta pareggi basta pareggi si va dai rigori anche in cazzo poi possono essere i rigori gli shout out l'assegniamo ai punti tipo la box ma i pareggi sono una roba inutile io sono d'accordo con questa cosa io sono per il gol ad oltranza Fabio cioè giocano anche fino a morire ma dai prima o poi prima o poi un gol entrerà no dai ma ecco ma Juve Napoli secondo me non finisce più cioè stiamo ancora a giocare oggi che il 25 settembre non finisce Juve Napoli secondo me non lo so non lo so perché comunque allora i rigori sono una roba un po' strana gli shout out da centrocampo anche non lo so io sono per andiamo avanti ad oltranza poi a un certo punto qualcuno segnerà a un certo punto eh anche per stanchezza no più stanchezza più errori ci possono essere nel corso di una partita grazie per la sapeppe grazie mille grazie mille conteggiata 322 dai 120 ho l'obiettivo mi raccomando mi raccomando direttore non mostrare più la schermata di titti che c'è la end world in che senso fermi non c'è nessuna end world ma che cazzo dici ma come ti permetti la end world è di Gary Neville ma che cazzo ma è incredibile veramente dice così no 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 ma figurati ma figurati ah in tendenza no non ci credo sì no ieri sera io ho visto una roba assurda ragazzi twitter è veramente social finito social finito twitter ragazzi veramente io l'ho vista io pensavo che veramente fosse Neville e la end world invece non ho detto l'hashtag aveva ragione il ragazzo vabbè però l'articolo l'ho porto sì era basta in world che cogliò chiunque l'ha fatto è un deficiente comunque allora basta pareggio in premier la proposta per regolare più spettacolo rigori per decidere il vincitore introdurrei rigori anche in campionato almeno ci sarebbe sempre un vincitore proposta insolita che andrebbe ad avere un impatto altrettanto rivoluzionale sul mondo del calcio per come lo conosciamo Gary Neville ex difensore di United intervenuto durante la trasmissione di Overlap in compagnia di Roy Keane e Jamie Carragher l'inglese ha infatti colto tale contesto per avanzare una proposta secondo lui è volta a favorire ed aumentare lo spettacolo di ogni partita a qualsiasi livello è molto semplice abolire i pareggi come attraverso i rigori tra l'altro un articolo fatto solamente di parole ripetute più volte alla fine delle partite in campionato in caso di pareggio introdurre i rigori che andrebbero ad assegnare un punto però supplementare un punto quindi una squadra otterrebbe due punti uno per il pareggio e uno per la vittoria ai calci di rigore io invece sai cosa farei? io invece sai cosa farei? visto che l'unica visto che l'unica l'unica obiezione che stanno tirando fuori in chat è eh sì così le partite durano tre giorni eh sì così le partite durano sei anni eccetera eccetera allora sai cosa facciamo? il pareggio non lo aboliamo lo lasciamo lo lasciamo ma sono zero punti per tutte e due bello godo vaffanculo godo vaffanculo zero punti per tutte e due zero punti non avete tirato in porta Juve e Napoli Tiago Motte e Conte e allora andate a fare in culo vi prendete zero punti tutti e due ci sta ci sta molto bene eh vediamo ancora eh questa regola renderebbe il calcio più emozionante per un tifoso che va allo stadio se un bambino va a vedere la partita dice Green Evil per la prima volta allo stadio o se ci va per una volta in tutta la stagione potrebbe vedere un vincitore anche se la partita dovesse finire zero a zero o uno a uno dice Green Evil eh in questa in questa sua ipotesi c'è la sub di del Sior Crisci grazie Michael trecento ventitré grazie mille eh leggiamo ancora del vincitore ma scusatemi tanto eh ma anche nei 90 minuti eh a volte è casuale eh silence silence non so scusami come si legge il calcio è l'unico sport del mondo dove può vincere chi gioca peggio dell'avversario è l'unico sport dove può vincere chi gioca peggio dell'avversario anche nei 90 minuti quindi di che parliamo certo 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 ma tra l'altro vorrei ancora ripeterlo il che c'è perché il calcio di rigore viene considerato un gesto tecnico quasi casuale il calcio di rigore magari tirato anche sotto pressione perché se tu fai zero a zero e arrivi ai calci di rigore per decidere la partita di un campionato magari una delle ultime cinque partite di un campionato tirare un calcio di rigore sotto pressione è o no un'abilità tecnica bisogna riconoscere che uno sa tirare un rigore meglio di un altro Cristiano Ronaldo quando arriva al rigore decisivo non sbaglia mai perché perché Ronaldo è allenato per quel momento mentre non lo so adesso faccio un nome a caso Zappacosta mi scuserà Zappacosta dell'Atalanta che non ce l'ho con lui ma è il primo nome che è venuto in mente magari sotto pressione nonostante sia un giocatore bravo dotato tecnicamente magari il calcio di rigore che decide la partita di campionato dell'Atalanta lo sbaglia è un'abilità tecnica un rigore ragazzi certo certo è un'abilità il calcio di rigore è un'abilità tecnica perché non bisogna premiarla anche in questo caso non si capisce non si capisce leggiamo ancora leggiamo ancora nuovo sub qui però non la vedo questa sub non è che ci vedi per il culo va bene va bene al massimo si può togliere il punto guadagnato in modo da incentivare il gioco che è la cosa che hai detto tu no? sì sì è la proposta Virmone questa infatti l'appoggiano questa di Virmone questa è buona di Virmone questa la sottoscrivo molto bene ed è così è già un altro discorso così si evitano anche le combine con zero punti col pareggio capito non è che ci basta un punticino a tutti e due zero punti il pareggio al novantesimo bene possiamo dire esti cazzi se il bambino vede un pareggio possiamo anche dire esti cazzi il problema è che per esempio non è il bambino io ho 34 anni tra poco la proposta saranno 35 possiamo dire che ci siamo rotti i coglioni a vedere Juve Napoli sabato pomeriggio ma poi sai cosa Andrea il discorso del bambino è generalizzato cioè detto così ovviamente dice ma chi se ne frega di sto bambino però il discorso è molto più ampio una delle cose che io ho sempre sottoscritto che diceva Andrea Agnelli è che il calcio oggi ha molta più concorrenza rispetto a 25 a 30 anni fa per quanto riguarda l'intrattenimento perché ci sono molti più videogiochi nelle case rispetto a una volta c'è Netflix c'è Prime Video c'è YouTube c'è Twitch c'è Instagram eccetera 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 se tu non rendi questo sport uno sport appetibile la gente non lo guarda la gente non lo guarda più ragazzi guardate che il genere umano esiste da 100.000 anni il calcio è uno sport che seguiamo da 100 anni quindi da una porzione di tempo molto piccola quindi non è che il calcio fa parte per forza della storia del genere umano il calcio è entrato di prepotenza nell'intrattenimento del genere umano ma deve anche mantenerla quella posizione lì e se noi e se e se un bambino guarda Sinner che a ogni colpo fanno un punto a ogni colpo c'è il gesto tecnico oppure si guarda l'NBA che ad ogni azione c'è la schiacciata c'è la stoppata c'è il gesto tecnico e poi si guarda Juve Napoli 0 a 0 con tre tiri in porta ma la volta dopo non la guarda più una partita non la guarda più cioè il calcio non diamolo per scontato ragazzi non diamo per scontato che fra trent'anni il calcio possa essere all'interno delle nostre vite come lo era trent'anni fa non lo possiamo sapere non lo possiamo sapere eh tra l'altro non è scontato eh questo è un argomento che trattiamo ormai ciclico ogni tre mesi ci capita di affrontare come migliorare il calcio facciamo una live così ogni tre mesi è un format di LB classico no è la cosa particolare è che ogni tre mesi più la situazione va avanti ma chiaramente non è per colpa di Juve Napoli che dipende da tantissimi eh fattori extra eh vedo che i dati di ascolto delle partite di serie A in televisione calano ogni mese ragazzi fate il raffronto tra la quinta dell'anno scorso e la quinta giornata di quest'anno e so de meno che erano di meno di un anno fa che erano di meno dell'anno ancora precedente va bene i costi della televisione a pagamento sono aumentati è un effetto forse il primo effetto eh secondo me è anche dovuto al fatto per esempio che c'è l'esplosione di Sinner del tennis no ma non non sto scherzando nel senso no no è vero è vero mi ricordo eh quando c'era la finale dello US Open c'era la partita della nazionale italiana o comunque eh Francia Italia c'era anche Sinner in chiaro su Super Tennis posso assicurare che Super Tennis leggende di ascolto ha fatto un milione e mezzo due milioni di ascoltatori che per un canale come Super Tennis che non ne fa manco se scende Cristo ed era la nazionale che va in chiaro eh la nazionale Francia Italia andava in chiaro sulla RAI sul RAI 1 vuol dire che va bene c'è un avvenimento ovvero abbiamo il tennista numero uno al mondo però vuol dire anche che se c'è un'alternativa al calcio di qualità e Sinner rappresenta un'alternativa di qualità è il tennista principale no di questo momento nel tennis ATP e allora ci guardiamo il tennis ATP non ci guardiamo la nazionale italiana deve far riflettere sta cosa ripeto non è che è colpa dei pareggi ma magari uno spettatore trova più spettacolare il fatto di vedere non lo so giocare più Sinner rispetto a una partita di calcio perché il calcio come diceva Virmone ormai ha tantissima concorrenza di altri sport delle console del streaming di Twitch di Twitch ragazzi quello che non c'era vent'anni fa ragazzi è facile capire cosa c'era vent'anni fa e cosa non c'era vent'anni fa come alternativa e cosa c'è invece oggi come alternativa cioè ragazzi vent'anni fa quando c'era una partita dell'Italia sto paese si fermava e facevano uscire la gente prima dal lavoro ma di che cazzo stiamo parlando cioè veramente quindi adesso ci sono ovviamente molti molte molte più cose che fanno concorrenza detto questo non vuol dire che il calcio è già in crisi non vuol dire che il calcio è già in crisi vuol dire che nel corso del tempo è giusto trovare come aggiornare questo sport in modo da renderlo più sempre più divertente e sempre più appetibile c'è chi dice no scrive una volta c'erano i due punti i due punti adesso non ci sono più ce ne sono tre una volta c'era il retropassaggio e ora il retropassaggio al portiere sei anni fa non c'era il VAR non c'era il VAR una volta una volta facevi un cambio uno uno adesso ne fai cinque si cambia ragazzi non succede niente questi cambi non è che vengono fatti per capriccio vengono fatti perché ci si accorge che qualcosa non funziona più e se tu perché guarda io tra l'altro avevo letto questo commento ti rubo ancora un attimo Fabio perché avevo letto questo commento qui dice Donny ciao Donny dice il problema sono le spese a monte di un'eventuale trasferta a vuoto incluso al pericolo di potersi far male per poi andare via con un nulla di fatto è una partita vuota non ce lo potremmo permettere seppur sia un'idea molto meritocratica ok ma se tu metti questa regola sai che vai cioè tu non avrai più squadre che giocano per il pareggio cazzo cioè se tu facessi una cosa del genere automaticamente tu dovresti giocare solo ed esclusivamente per la vittoria perché sai che il pareggio ti porta a zero o poi la mia è una buttata così adesso io non è che mando una mail sì ma ce ne sono tante riproposte che si possono fare cioè non è che mando una mail a Infantino robe del genere ci mancherebbe però secondo me potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea questo è un messaggio a cui voglio rispondere questo di Andrea perché io gli posso assicurare che non è così lui dice io al calcio riesco ancora a trovare un grande pregio in un mondo dove la solita attenzione è in costante calo con il calcio sai che dovrai stare attento alla televisione un'ora e 45 posso dirti che questa cosa è falsa se tu ma te lo dico guardati raccontando di un'esperienza quella di mio padre che c'ha anche una certa età quindi non è digitalizzato come un ragazzo di 14 anni ti posso assicurare che non riesce più a guardare nessuna partita di calcio manco la Juve senza stare 10-15 minuti ma tranquilli fissi con lo smartphone in mano anche ad ascoltarsi altro mentre guarda la partita e poi quando Pardo dice attenzione si gira e dice ah occasione per la Juve occasione per il Napoli non ci si riesce più io sto cercando per esempio l'anno scorso era un effetto collaterale allegriano per come dire cercare di prestare attenzione alla partita cosa facevamo? le commentavamo su Twitch facevamo la ride reaction perché tanto non ce ne fregava un cazzo e quindi evitavamo di farci due palle di fronte alla televisione senza commentare senza fare altro e quindi facevamo la live reaction qui su Twitch adesso che c'è un allenatore che magari almeno inizialmente ci desta più curiosità vogliamo capire come vuole giocare sta squadra se è in grado di competere fin da subito quali cambi fa eccetera quale mostre tattiche la vogliamo vedere ma magari Virmone tra due mesi se continuiamo a fare 0-0 ci rompiamo i coglioni torniamo a fare la reaction per dire però per dire che posso assicurarti che questa attenzione per 90 minuti non so te Virmone è molto difficile ma anche perché scusami ma durante le partite il nostro Discord è intaso di messaggi è intasato di messaggi quindi vuol dire che comunque la gente su Discord scrive altro che attenzione per 90 minuti tu riesci a guardare ormai una partita Virmone prestando attenzione fissa per tutti i minuti della partita ma no ma quello allora partiamo dal presupposto che quello non dipende dal calcio ok perché io credo che succederebbe una roba simile anche se noi vedessimo una partita fra dopati che per 90 minuti corrono come dei dannati ormai nella nella nostra abitudine quotidiana c'è quella di avere il telefono in mano di leggere cosa dicono sai Fabio il Discord è come quando una volta andavi a guardare la partita al bar tu la guardavi al bar avevi tutti quelli intorno che commentavano tu rispondevi eccetera eccetera oggi al bar non ci vai te la guardi a casa e le opinioni della gente le cerchi le cerchi su Discord però è vero anche quello fa parte dei problemi di attenzione che noi abbiamo che ripeto non dipendono dal calcio perché io guarda io forse 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 ad oggi solo se guardo un film che veramente mi piace ma ti deve piacere tanto pure il film sì 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 mi deve piacere tanto l'altra sera ho guardato una cagata dopo 20 minuti gli ho detto scusa Virmina se ti sto facendo vedere sto film e ogni tanto anch'io mi facevo i cazzi miei sul telefonino ovvio però è proprio una cosa che quindi non è che il calcio dipende da questo ma il calcio deve contrastare in qualche modo questo nostro problema di attenzione il calcio deve capire come tenerci sempre attaccati allo schermo durare di meno le partite può darsi può darsi anche quello oppure per esempio Platini la settimana scorsa in un'intervista a Tutto Sport ha detto sapete qual è il problema che ormai gli atleti sono talmente forti abili super fisici eccetera che occupano molto più spazio proprio a livello di massa muscolare eccetera rispetto al calciatore degli anni 70 sapete qual è la soluzione giochiamo 10 contro 10 non 11 contro 11 che pure questa secondo me non è una stronzata poi pensateci per me non è una grande cazzata questa qui non è una grande cazzata per me ci sta non so cosa ne pensi guarda questa allora mi ha spiazzato questa cosa mi ha spiazzato perché comunque anche lì no Fabio c'è anche un'altra cosa allora se noi facciamo questa roba qua per un discorso di spazio ok per un discorso di spazio dobbiamo fare anche una cosa dobbiamo per forza per forza standardizzare i campi cioè non ci può essere più la forbice da x metri a y metri allora devono essere tutti uguali perché un conto è giocare in 10 nel campo della Juve e un conto è giocare in 10 al che ne so all'Olimpico certo per esempio certo perché il campo della Juve è più piccolo in 10 potrebbe essere una soluzione non lo so quello quello però vedi quello ti stravolge anche quello però ti stravolge anche tutta la tattica però però hai più spazi hai più spazi è quello sicuro quello sicuro però secondo me però secondo me va forse un po' a rivoluzionare è anche troppo il il lavoro dell'allenatore per come è studiato fino ad oggi perché cioè l'allenatore studia per mettere 11 persone in campo facciamo il portiere volante facciamo il portiere volante chi si trova sulla linea adesso stiamo esagerando adesso stiamo un po' esagerando però no la cosa di Platini comunque Platini non è un cretino perché Platini è sicuramente una persona che a pallone ci ha giocato il pallone lo ha diretto e quindi ha diretto anche il baraccone del pallone quindi per carità però secondo me quella è molto sarebbe veramente radicale come idea 10 contro 10 è molto radicale come idea io piuttosto comincerei con che ne so con altre robe tipo 30 minuti 25 minuti a tempo con il tempo effettivo qualcosa sui pareggi ecco quello quello sì quello sì già drasticamente cambiare il gioco togliendo un uomo è pesante è una cosa clamorosa è una cosa clamorosa ci sono due sub grazie mille allora ringraziamo Auto fa 10 mesi con Amazon Prime Luca Bonora che fa 14 mesi sempre con Prime c'è una donazione proprio in questo momento da parte di GTA Guides eccoci qui dovrebbe essere io la vedo la vedo come donazione o si mettono più punti alla vittoria e si svaluta il pareggio o si svaluta o si mettono più punti alla vittoria e si svaluta il pareggio o si svaluta il pareggio anche mezzo punto o nessun punto dice grazie mille allora secondo me portare a 4 punti la vittoria secondo me è esagerato ok secondo me è esagerato 3 punti per la vittoria vanno bene però come dicevamo prima disincentiva il pareggio cioè che cazzo ne so piuttosto 0 a 0 ma se pareggi in casa sei tu che fai 0 punti non lo so dai non lo so però però si bisogna ragionare su questo sul fatto che è l'unico sport che prevede il pareggio questo ma è una cosa per me incredibile con adesso ti provoco ma per andare su un altro argomento tratteremo quello lì non vi preoccupate ci stiamo prendendo un po' di tempo perché ce ne sono di argomenti da trattare in 10 contro 10 con più spazio e quindi magari con un'abilità tecnica richiesta in modo più come dire in modo più richiesta appunto rispetto all'abilità fisica su lei troverebbe più spazio no perché leggo oggi da gol punto com su lei da titolare ha dimenticato ha giocato no 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 non sono dati inventati da me appena 7 minuti nelle ultime due partite e nelle altre partite non è che avesse fatto per forza il titolarissimo per 90 minuti era partito nella prima partita contro il Cagliari della Roma e per il resto ha sempre giocato dalla panchina tranne anche contro l'Empoli se non sbaglio il gioco titolare con Dybala e con Dovbic io non voglio fare il victory lei anzi perché voglio augurare il meglio a Sule io non sono un bastardo da questo punto di vista non ho niente contro Sule assolutamente no mi auguro che faccia bene per chi l'ha preso al fantacalcio io no tra l'altro quest'anno non l'ho preso per chi è investito emozionalmente da questo ragazzo l'unica cosa che voglio dire è I told you so e non aggiungo altro soprattutto alla base del fatto che qui Sopera lo ricorderò sempre perché per me questo è una cosa importante non Sule che fa bene a fare la sua carriera altrove tutti contenti tutti felici e lo voglio abbracciare fortissimo Sule assolutamente assolutamente lo abbracciare fortissimo il signor Sule il signor Martias Sule dico solo che presso la nostra Chrome Unity mentre guardavamo spettatori anche come dire ammaliati dalla bellezza del gesto tecnico di Yamil di Yamal qui sopra c'era chi diceva cosa ha dimostrato più Yamal di Mattias Sule e per questo non dico e non aggiungo altro do la parola a Virmone se vuole dire qualcosa su questa situazione di Sule ad oggi può anche essere considerato un affare averlo ceduto a 28 milioni ma ma guarda io credo che il problema sia tutto della Roma cioè avendo preso Sule ma avendo contemporaneamente tenuto Di Bala è ovvio che in casa c'hai un doppione perché sono due giocatori identici sono due giocatori mancini che partono da destra e quindi è un doppione clamoroso lo diceva non mi ricordo più chi forse proprio Trevisani parlando del mercato della Roma boh non mi ricordo fosse andato via Di Bala probabilmente avremo un come si dice un elenco di dati diverso per per Sule però Di Bala non è andato via e quindi soprattutto la Roma ha preso un allenatore che fa del della cazzimma direbbero a Napoli del gusto anche di menare come gli uri ma quando gioca su me ragazzi eh boh non lo so a questo punto non lo so non so se l'anno prossimo magari magari è lì magari è lì che scalda i motori e poi l'anno prossimo Di Bala lascerà la Roma e lui si prenderà finalmente il posto da titolare comunque un ragazzo comunque giovane eh detto questo certo quando il problema il problema Sule è stata quella quella famosa dichiarazione di di Pedullà no? di Pedullà se non sbaglio che disse è giunto lì eh o dà via Sule per 40 milioni o non lo dà via sì e quello poi ha viziato ha viziato tutto tutto il giudizio non è un giocatore da 40 milioni ragazzi esatto con guarda io me lo ricopro perché ripeto non è Sule il ragazzo mi sta pure simpatico l'anno l'anno scorso c'era Alfanta Alfrosinone credendoci nelle sue abilità lo presi a uno tra l'altro credendo molto mentre tutti gli altri non ci credevano quindi il ragazzo mi sta anche simpatico però averlo per esempio ceduto a 28 milioni non ai 30 no? alla cifra tonda ha portato l'isterismo di massa almeno per 20 giorni a me mi fa girare i coglioni perché vuol dire non aver mai condotto una trattativa ma nemmeno non di calcio-mercato che non l'ho condotta nemmeno io tranne appunto al fantacalcio ma nemmeno una trattativa al mercato quando uno va a comprare la ranch ma signora 5 euro 3 se ci si mette d'accordo a 4 c'era gente che appena ha visto la cifra di 28 milioni ci siamo calati la Roma ci ha cacato in testa la Roma ci ha cacato in testa la Roma Roma capitale Torino provincia giuntoli provincia ragazzi deve capire che non sta Napoli ma quante ne abbiamo sentite tra l'altro appena è finito il mercato giusto per scherzare lo saluto se ci sta ascoltando il signor Jack vs Game da quando è finito il mercato e non c'è più da dire giuntoli non c'è più non c'è più non stai dove stai 7 minuti ha giocato sulle nelle ultime tre partite vieni a scrivermi adesso che abbiamo ceduto il futuro il futuro abbiamo ceduto il futuro e va bene e va bene va bene era giunto lì stesso con gli account fake non penso non penso non penso non penso non penso va bene va bene va bene archiviamo anche la questione la questione andiamo su un'altra questione che mi sorprende che riguarda anche te virmone riguarda anzi forse principalmente te perché noi abbiamo commentato anche con grande piacere e lo saluto e lo ringrazio Luca Toselli per la bellissima intervista che ha fatto a Scesni in cui dice signori io mi ritiro do anche le mie motivazioni se non avessi continuato con la Juventus mi sarei già ritirato non c'è stata l'opportunità di continuare un altro anno con la Juventus e quindi ho detto basta pare caro virmone che sta per firmare con il Barcellona quindi ha scammato Luca possiamo posso dire che Scesni ha scammato Luca lo possiamo dire a questo punto vabbè allora Barcellona magari non si rifiuta ci sta cioè se ti dai Barcellona ci pensi più volte però io un po' ci sono rimasto male nel senso ma come hai fatto l'intervista della vita le confidenze personali non lo so cosa le pensi di Virmone che dovrebbe restituire la buona uscita e che il Barcellona comunque non si rifiuta poi facesse quello che vuole ma lo chiedo in chat è un ragazzo un po' volubile possiamo dire questo un ragazzo non ha le idee molto chiare ecco no che secondo si è spaccato da Ter Stegen ragazzi Ter Stegen stagione finita che ha a fare il secondo lui i Rodri sono due che hanno praticamente terminato la stagione tra l'altro Rodi poraccio ha detto il giorno prima si giocano troppe partite basta fuori una stagione è incredibile la buona uscita mi sa che rimane a te che io leggevo che invece la doveva non lo so però ragazzi qua mi dovete venire in incontro voi vedremo come verrà risolta avrei voluto fare un altro anno queste solidificazioni un anno mi sentivo di poterlo fare ancora le offerte non mi hanno entusiasmato quindi evidentemente dice quella del Barcellona mi entusiasma e ci vado e ci vado quindi lo chiedo a Virmone tu non porti rancore se va veramente al Barcellona chat però dovete essere onesti non fate i buonisti un pochino di rancore ma non per la Juve la Juve ha preso un bravo portiere ha un bravo secondo e non prendere nemmeno un gol tra l'altro per la fase difensiva che fa ma un minimo vi sentireste vi sentite presi per il culo un minimo no no l'abbiamo messo noi alla porta Fabio dai l'abbiamo messo noi alla porta allora io so zitto così non influenzo più nessuno ok nessun rancore sono contento per lui però vedi peccato per i soldi vedi che però il denaro il denaro chi se ne frega dice Paola no poi se restituisce parte del mallotto vedi mi scazza però vedi che per la buona uscita la gente si rimane male ci rimane male poi attenzione sono contento per lui vediamo grande portiere ma onestamente anche grande parlantina non sempre i fatti poi dice Matt Lor non ce ne frega un cazzo zero pare che i soldi che prenderà li restituisce me ne fotto troppo brava persona per portare il rancore mi dispiace per le lacrime di Toselli dice Andratos lo chiediamo a un intellettuale della Magna Grecia come è stato definito prima che abbiamo visto la sua libreria prima c'era la sedia vuota per mezz'ora dei live ho fatto vedere la sedia vuota e sentiamo Ciriaco Ciriaco Craft buon pomeriggio ciao buon pomeriggio a tutti come stai? molto bene sto aspettando il tè quindi mi vedete glielo portano anche che te lo porta va bene di che cosa parlavate? io non ho ascoltato non ero neanche nella camera abbiamo parlato della proposta di Ciri Neville di abolire i pareggi tu sei d'accordo? abolire i pareggi in che senso? abolire i pareggi che vuol dire abolire i pareggi? che cosa vuol dire? si va ai rigori se non ce ne deve essere un pareggio se le due squadre finiscono 0-0 1-1 2-2 quindi 3 punti o 0? Gary Neville 2 punti per chi vince e 1 punto per chi perde ai rigori altrimenti 3-0 si proposta di Gary Neville magari non ai rigori però magari sai cosa? mezz'ora di supplementari e poi i rigori però con il tempo effettivo vabbè ok però con il tempo effettivo con il tempo effettivo e questa era una la seconda cosa su lei solamente 7 minuti nelle ultime due partite godi? io sì un attimo fa ha detto ma io io comunque su lei gli voglio bene io non è che gli voglio godi ho chiesto a Kraft se gode godi perché godi? un'ora di live avete parlato di abolire i pareggi di su lei in panchina e si gode sì la domanda è godi? mangeresti? diciamo che Fabio Villani non è una persona rancorosa non è una persona che se le lega ma non è assolutamente va bene quindi non godi ottimo la terza cosa Scesni potrebbe andare al Barcellona la domanda che ti faccio è Luca Toselli è stato scammato vergognosamente? no lui ci ha fatto anzi si è scammato minchia ci ha fatto il content una cosa rara voglio dire no Scesni deciderà lui cosa vuole fare se poi torna la Juventus risparmia pure qualche soldo qualche milioncino di buon'uscita meglio ancora perfetto abbiamo parlato di questo in 50 minuti di live ma d'altra parte di che vuoi parlare d'altra parte no l'argomento l'argomento forte lo tiriamo fuori adesso dato che con Kraft ho tra virgolette litigato mi sono preso sulla questione Blauich oggi pare che ci sia un aggiornamento sulla questione contrattuale di Dusan Blauich ma ne parliamo dopo la pausa no no ne parliamo adesso anche perché no anche perché poi c'è magari trattiamo altri argomenti di altre partite dopo 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 ma oggi ha parlato il sior Pedullà e non solo perché pare che la Juventus abbia fatto una proposta contrattuale a Blauich ma Blauich per ora ha detto no vediamo 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 se è vera vediamo cosa dice eccetera io vi leggo solamente il titolo e ci vediamo questo video Blauich tra virgolette tra parentesi per ora per ora spalma solo la Nutella Alfredo Pedullà che sembra il titolo di un video di Sergio questo spalma solo la Nutella vediamo vediamo cosa dice Alfredone Pedullà prego eccoci amici grazie sempre per la vostra presenza per la vostra partecipazione siamo arrivati al mercoledì mercoledì 25 settembre stasera Europa League e quindi io scambio auto maglie preannunciate e previsto l'ho fatto un Pizzarro dannata ai tempi dell'Udinese perché Pizzarro è stato un centrocampista importante un centrocampista che aveva che aveva sali in zucca che sapeva caricarsi la squadra sulle spalle che aveva intuizione a me piaceva molto non so quanto a voi ripropongo Provedel perché comunque per celebrare la serata di Europa League la Lazio in campo domani toccherà la Roma e quindi Provedel e poi un Giorca dannata di sicuro grande talento genio regolatezza grandi numeri grandi colpi grandi pause grandi tutto comunque eccolo qui con la maglia numero 6 dell'Inter scusate mi viene in mente una domanda ma Umbro il marchio Umbro sponsorizza ancora cioè è ancora attivo perché me lo ricordo gli anni 90 forse in Premier forse in Premier sì era inglese come marchio sbaglio sì 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 torno su un argomento che è un argomento che può diventare attuale e il titolo mio è Vlaovic spalma solo la Nutella che comunque non sarebbe male spalmare la Nutella senza fare pubblicità a Tizio Accaio perché chi di voi non ha spalmato chi di voi non si è esibito a chi di voi non piace credo a tutti esibito mentre mangia Nutella no però il discorso è molto semplice oh guardate l'ho spalmato la Nutella magari lo fa uno che fa le creppe che la fa sa fare bene però sebbene che quando andiamo a ridosso del 2026 cioè più passano i messi andiamo a ridosso soprattutto del 2025 ci avviciniamo a un anno e mezzo dalla scadenza è normale pensare che qualsiasi club voglia capire i margini di manovra per poter prolungare il contratto se tu hai maturato quest'ingaggio folle c'è soltanto un termine folle fermi tutti fermi no 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 aspetta infatti questo volevo fare definisci tu invece l'ingaggio di Vlavic come l'hai definito la volta scorsa una sciagura finanziaria perfetto andiamo avanti no no va bene io accetto gli opinioni di tutti prego che hai ereditato dalle precedenti gestioni che quindi non potevi far nulla perché quando lo hanno acquistato per 70 75 più onere accessori più bonus più commissioni più tutto il resto grazie ancora per i venti GTA grazie ed è passato un po' di tempo ed era quel famoso gennaio gli hanno garantito dei bonus milionari qui ci vorrebbe Gerry Scotti con un suo quiz o qualcosa del genere era partito da una base quella base il rapporto ai gol che ha fatto è aumentata e adesso siamo a 12 12 sono tanti soldi e non c'è bisogno che lo dica io in pratica tu versi circa un milione netto al mese a Vlavic e quando parli di un milione è evidente pensare che ti aspetti il rendimento da pallone d'oro e quindi a maggior ragione torniamo sull'argomento dei giorni scorsi delle ultime 48 ore e dice ma perché lo devi sostituire se è l'unico attaccante che hai e la domanda ha un'altra domanda ma perché non lo devi sostituire se lui perde palloni ne ha giocati sei ne ha persi tre e quei tre potevano risultare sanguinosi e comunque il rischio era quello nel secondo tempo di poter favorire di poter favorire le ripartenze quindi meglio mettere UEA poi quelli che sono andati a Coverciano e ci hanno insegnato che sarebbe stato meglio mettere Nico piuttosto che UEA diventeranno molto presto allenatori e se avesse segnato UEA con il metodo italiano avremmo fatto il discorso che è stata una grande giocata da parte di Tiago Motta siccome non ha segnato bisognava mettere Nico Gonzalez ma questo è un buon gioco posso dire però questo è distinto a Fabio no io invece no 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 io per correttezza dico dato che sono onesto che il cambio mi ha fatto cacare se l'avesse fatto Allegri qua sarebbero tutti esplosi di rabbia dato che io sono coerente con le mie idee il cambio UEA Dushan Vlau continua oggi sono passati ormai quattro giorni continua a farmi cacare e non è che se l'ho fatto Tiago Motta allora sono un fan e allora se lo fa Allegri non mi piace no mi fa cacare e l'ho detto più volte più riprese assolutamente concordo andiamo avanti giochino per i bambini di quattro cinque anni che si possono divertire così torniamo a Vlauvi la Juve è normale pensare che questa sia la stagione svolta in un senso o nell'altro ed è normale pensare che la scorsa estate non questa nell'estate del 2023 davvero Vlauvi è andato molto vicino alla cessione e la valutazione era di 90 milioni e allora c'era qualcuno che aveva pensato di sborsare 90 milioni e poi si è pentito il Paris Saint Germain cosa ha pensato la Juve negli ultimi mesi nelle ultime settimane andare dal suo entourage e dire intanto ci possiamo ritrovare per spalmare famoso termine spalmare passare da 12 netti allungare di un anno due meglio due andare al 2028 e portarti a 8 9 milioni così tu mi rinunci a 3 milioni netti più o meno l'anno e li spalmi su una distanza di altri due anni rispetto all'attuale scadenza i confronti che ci sono stati qui per spalmare hanno portato alla predisposizione e alla logica conseguenza logica dal punto di vista dell'entourage che spalmi soltanto la Nutella spalma soltanto la Nutella non vuole spalmare l'ingaggio voi sapete bene che questa è una cosa che non può essere contraddetta o non si può alzare un contraddittorio perché lui vuole guadagnare debba guadagnare di meno pur prendendo gli stessi soldi che poi due anni su 24 8 o 9 per 4 su 36 netti alla luce di tutto questo avrebbe comunque guadagnato ma sulle lunghe distanze evidentemente lui non vuole andare sulle lunghe distanze perché pensa che il suo dentro fuori con la Juve debba maturare entro questa stagione quindi vedremo se ci saranno altri incontri vedremo se questo discorso magari porterà a un ripensamento ma come avete visto nel caso di Chiesa non c'è stato alcun tipo di incontro per un rinnovo ponte come avevano venduto perché bisognava andare al dentro fuori se andate al dentro fuori si capiva subito che sarebbe stato più fuori che dentro perché Chiesa avrebbe voluto fare un'esperienza altrove perché non rientrava nei piani e nei programmi non è questo il caso ancora di Vlaovic perché vi posso garantire che malgrado tutte le interpretazioni sul fatto che all'inizio della stagione quindi non una vita fa Tiago Motta era molto contento di avere Vlaovic al suo servizio poi nel suo metodo nel suo sistema nelle sue abitudini aveva un centravanti che faceva un determinato tipo di movimenti Zirzea Bologna lo sapete bene come lavorava per la squadra e come andava di sponda prendendo anche il pallone e favorendo gli inserimenti queste cose a Vlaovic non le puoi chiedere ma vi posso garantire che Motta è un estimatore di Vlaovic che non lo butterà dalla finestra indipendentemente dal fatto che abbia fatto male nelle ultime partite che abbia sognato soltanto all'inizio grazie Sandro per la sabra che abbia sbagliato un gol importante ad Empoli perché secondo me quell'occasione di Empoli va capitalizzata e va fatto il gol che lui non ha fatto soprattutto se guadagni 12 milioni a stagione quindi l'interpretazione di questa cosa è che noi possiamo prepararci a un altro incontro magari durante la sosta o altri contatti che ci saranno tra l'enturaggio di Vlaovic e la società per cercare di capire i margini di manovra su un'eventuale proposta che la Juve magari proverà a fare nel frattempo ci sarà o a rifare o a riproporre nel frattempo ci saranno tre partite che sono molto importanti anche per Vlaovic il Genoa fuori poi la trasferta all'Ipsia e poi chiudere la pratica con un'altra partita in casa contro il Cagliari e andare alla sosta per cercare di capitalizzare al massimo non soltanto i punti ma soprattutto Vlaovic perché c'è bisogno di una risposta è vero che Vlaovic deve essere aiutato ma è anche vero che Vlaovic deve aiutarsi da solo ora è normale che se io vi chiedessi 12 milioni sono una cifra congrua voi direste no 12 milioni sono una follia se guadagni 12 milioni è normale che tu debba fare ed avere un rendimento da 25-28 gol forse quasi tutti in campionato ma almeno 20-22 in campionato me li devi garantire è troppo presto per tirare delle somme la cosa importante è che la spalmatura viene fatta soltanto per quanto riguarda quel delizioso cioccolato da mettere sul pane spalma soltanto quella sul pane o dove vi pare perché comunque può essere utilizzabile altrove spalma soltanto quella resta alla finestra secondo me i prossimi mesi saranno fondamentali per capire quello che è il suo futuro la mettiamo anche su un aspetto economico sì potrebbe avere degli stimatori sì la Juve sarebbe contenta se si sbloccasse per due motivi il primo perché aiuterebbe molto Tiago Motta il secondo perché dimostrerebbe al mondo intero di essere un attaccante all'altezza della cifra spesa e di quei 12 milioni di ingaggio a stagione che lui non spalma perché preferisce spalmare altre cose non vi parlo di scenari situazioni altre attaccanti qualcosa ho detto nelle scorse settimane qualcosa dirò quando sarà il momento non mi sembra di correre su un argomento che al momento è prematuro ma ci torneremo molto presto aspetto un vostro giudizio e soprattutto i vostri commenti su questo tipo di argomento vi auguro una buona giornata e ci rivediamo molto presto con i miei tre nuovi compagni di viaggio ciao grazie salutiamo io c'ho da dire una cosa resto convintamente dell'idea che Juventus FC SPA e Vlaovic Dusan detto Susan dal suo rombardo in chat o alla fine dell'anno o a metà anno o tra un anno eccetera rinnoveranno il loro rapporto professionale perché sarà un rinnovo che conviene a tutti in primis alla Juventus che vi ripeto ancora altri centravanti da un certo rendimento dalla giusta età eccetera sul mercato ad una cifra congrua non ne troverebbe tantissimi non ne troverebbe tantissimi a Vlaovic anche perché la cifra che percepirebbe abbassandola di un poco eccetera eccetera non la troverebbe da altre squadre e altri mercati almeno in questo momento ma nemmeno se facesse 37 gol per quanto mi riguarda quindi per me alla fine tutta sta tiritera si concluderà non so se tra un mese due sette un anno eccetera con il rinnovo di contratto in stile lo ripeto ancora Lautaro Martinez voglio chiedere però a Birmone se questa di Pedulla secondo il suo giudizio è una sorta di velinata è il primo che mi scrive di nuovo Ozyman senza sapere quanto prende Ozyman quanto vuole Ozyman lo manda a fare in culo prego Birmone ma può essere sì allora sicuramente sicuramente c'è un un contatto tra tra Pedulla e qualcuno in Juve prima prima di fare questo video è evidente io capisco anche perché perché lui non non voglia spalmare perché lui dice lui giustamente giustamente Pedulla che cosa dice allora Pedulla dice questo prende dodici milioni e li prende fino al 2026 giusto giusto no o dico cazzate giusto 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 o fino al 25 no no 2026 sarà gli mancherà un anno a giugno come è chiesa questa estate ottimo quindi in teoria la Juve deve dargli togliamo quest'anno da contratto la Juve deve dargli ancora 24 milioni giusto metti sì sì può salire ancora un mese più un mese meno no 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 di più di così non può salire non può salire più di così perfetto quindi a Vlaovic spettano 24 milioni in due anni Pedulla fa un esempio e dice spalmi il contratto anziché su due anni su quattro ok anzi facciamo su tre su tre così anziché darmi 12 milioni all'anno me ne dai otto giusto e ti porto al 27 giusto è questo lo scenario che ha fatto Piavola sì no è importante se è 28 27 ma se tu dici quattro anni immagino sia 28 no tre anni tre anni tre anni allora 27 quindi io anziché darti 24 milioni in due anni te ne do comunque 24 ma te li do in tre ok questo significa che lui si abbasserebbe lo stipendio annuo di un terzo il che significa che se lui dovesse andare a cercare altri contratti dovrebbe partire da una base di 8 milioni e non di 12 ma perché dovrebbe farlo oggi a settembre oggi a settembre perché hai capito questo qua il punto è Vlaovic dirà ok tu oggi mi stai proponendo sta roba ma se io da qua alla fine dell'anno ti faccio 30 gol e che cazzo mi sono tagliato lo stipendio di un terzo per farti 30 gol sì non esisterà mai una cosa del genere e quindi per te e ora ti faccio questa domanda perché tanto la versione di craft la so già e chiaramente la farò ripetere come si risolve questa vicenda nel senso se legittimamente riceve di non spalmare il suo contratto verrà ceduto quest'estate come chiesa ah sì a giugno è sul mercato dai a giugno è sul mercato e se nessuno qua non parliamo manco di una cifra bassa parliamo di uno stipendio ancora più alto rispetto a quello di chiesa e con una quota di ammortamento ancora più alta rispetto a quello di chiesa quanto sarebbe al volo 35 40 sì credo sui 40 credo sui 40 ma figurati se non trovi 40 milioni per un ragazzo di 24 anni dicevamo la stessa cosa per chiesa poi siamo scelsi da 25 ho capito ma chiesa è più vecchio chiesa è più vecchio e c'è anche un crociato alle spalle dai no 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 secondo me tutti stanno dicendo a giugno è fuori rosa eh sì sì Fabio sì sì o fa veramente 40 gol o fa veramente 40 gol o come fai tenerti Fabio ma non ti puoi tenere uno a 12 milioni che fa 15 gol all'anno cioè proprio per un disco a me Dusan piace io se fossi Tiago Motta strutturerei il mio gioco in modo che Vlaovic abbia quattro palle gol alla partita solo davanti al portiere ma non è così quindi la realtà dei fatti è un'altra non alleno io alleno Chiago Motta e quindi se per il gioco di Chiago Motta sto ragazzo non può ripagare quello che è il suo ingaggio ringraziamo il signor arriva bene e a giugno e a giugno ci faremo dare quello che ci serve per non fare minusvalenza e una squadra come Aston Villa West Ham fanno la fila pure Arsenal c'è no Arsenal non lo so ragazzi ma quindi scusate perdonatemi poi va trovata una squadra che gli dà 10 milioni però 11 milioni ma in Premier gli danno figura sì ma sta roba qua date troppo per scontato che il Premier gli hai dato io non so così sicuro Fede ha detto più o meno le stesse cose che ti ho detto io l'altro ieri né più né meno esiste esiste uno scenario in cui da qui alla fine Blaovic ti fa ti impara innanzitutto a giocare meglio con e per la squadra ti fa 30 gol nelle restanti 33 partite di campionato ti fa doppietta in finale di supercoppa decisiva ti fa alzare la supercoppa ti fa gol al manchester city vabbè vince il pallone d'oro e ci facciamo una sega in live ma allora scusami scusami ma non la portare così così è troppo estrema ti fa altri 8 gol in champions in non so 11 partite ancora ti fa basta che poi la coppa italia conta relativamente lo sai che il calciatore con quei numeri non è da 12 è da 17 milioni di euro allora appunto ti dico ti fa una stagione che lo consacra nell'olimpo veramente degli attaccanti che il pari san germain vuole vlaovic capito i tifosi del pari san germain sognano vlaovic quel tipo di rendimento da attaccante lì e allora in quel caso lì sai che io che sono sono giunto lì sono scanavino sono chi vuoi tu vado dalla gente di vlaovic e gli dico ma sai che c'è io 12 milioni per altri 3 anni te li do esiste questo scenario qui esiste un altro scenario in cui vlaovic fa la sua stagione normale tra virgolette per quelle che sono le capacità di vlaovic ovvero 25 gol fa una buona stagione in modo che l'anno prossimo a giugno arriva l'arsenal arriva il celsi 70 milioni lo prende e se lo porta via e la juventus ne prende altri due di attaccanti non uno altri due di attaccanti che in mano a Tiago Motta crescendo magari non vecchi ma sui 20 24 anni te li fanno anche loro i gol che ti fa vlaovic in una sua stagione normale crescendo con il lavoro magari pure più forti di vlaovic perché no per me questo è il ragionamento che fa la juventus o fai una stagione in cui ti meriti i tuoi 12 milioni altrimenti io ne trovo altri due che possono farmi quello che possono però Ale perdonami se la decisione non fosse già presa a prescindere dal rendimento gli avrebbero proposto se non gli avrebbero proposto adesso di spalmare il contratto dai ma infatti io che sono io tifoso parlo è un'opinione ma giunto di quello che da fare già per la prossima strada ce l'ha già tutto scritto non ti dico tutto scritto ma l'idea è per forza devi avercela per cui ti dico secondo me qual è la mia opinione secondo me o fa la stagione da fenomeno oppure a giugno è nella situazione di chiesa tre mesi fa per Fabio questa è una cosa triste per me no è una cosa triste perché ripeto siamo a settembre già a parlare di questo scenario in cui un giocatore che deve fare la stagione che deve contribuire sia alla sua carriera ma anche alla stagione della Juventus già sentire guardate che già verso aprile e maggio gli verrà detto si fuori rosa a luglio a me mi interessisce ma non fuori rosa ma non fuori rosa però se c'è lo ragazzi ma leggete la chat fuori rosa ma la chat ieri parlava di Afinagian scusami lascia stare la chat ma pure tu mi stai dicendo la stessa cosa pure tu mi stai dicendo la stessa cosa Giuntoli sa già quello che deve fare mi stai dicendo Giuntoli ha già pianificato la prossima estate e io traduco quello che mi stai dicendo tu Vlaovic non fa parte dei piani della Juventus 25-26 ma per quello che prende non può farne parte non ti devi giustificare di quello che stai dicendo mi confermi questa cosa sì te lo confermo come no me lo confermi posso dirti che questo scenario in cui già si sa che il prossimo anno non per Vlaovic ma un giocatore che in questo momento deve spaccare il mondo e farci vincere il campionato o farci arrivare prima di due sappiamo già che non farà nei piani parte dei piani mi tristisce perché io credo che bisogna anche motivarlo su questo aspetto che cazzo di Vlaovic scende in campo a gennaio a febbraio a marzo se la situazione è questa qui i due calcoli su questa stagione non li fate deve smentire le malelingue e deve zittire le critiche e deve portare la Juventus a vincere lo scudetto e arrivare sì ma sapendo che la Juventus lo sta già buttando fuori di casa ma sta a lui Fabio sta a lui sta a lui perché se fa la stagione da fenomeno io ti ripeto se lui noi parliamo del Vlaovic calciatore che è un giocatore lo definiamo tutti quanti un morale che tende nella partita se sbaglia il gol a incazzarsi se già c'è questa situazione più gli aggiungiamo il carico guarda non segni 30 gol a marzo schiodi giuntoli oggi alla continassa sto scherzando chiaramente vuol dire che la stagione della Juventus 24-25 se non è già segnata poco ci manca se il giocatore che deve fare i goals o sbaglio per me non lo è non lo è io sono la partita contro il Genoa e secondo me Vlaovic può fare pure due gol io non la vedo così così trancianti cioè praticamente adesso lui gioca male perché non sa il futuro per me deve rimandere concentrato ma sicuramente lo è concentrato sul campo e poi delle cose extra contrattuali ma convieni con me che non è facilissimo già oggi secondo me allora lo dico in modo schietto se questa è una velina di Juventus e secondo me non lo è per far passare un messaggio da dare a Vlaovic questo è il momento più sbagliato possibile di mandare questa velina almeno su questo possiamo essere d'accordo almeno su questo cazzo io non ragiono in termini di veline di messaggi da far mandare secondo me Pedullà avrà fatto una chiacchierata con Giuntoli Giuntoli che gli avrà detto no questo non spalma solo la Nutella e Pedullà riporta sta cosa ma non c'è un un messaggio da mandare a chi ha orecchie per intendere cose di questo tipo una notizia ma anche ma anche giustamente io non mi aspetto che Vlaovic si tagli lo stipendio del 25-30% per fare un favore così alla Juventus che deve spalmare che non può se Vlaovic c'è gente che gli offre stipendi a sette cifre per me che deve fare se ne va quello bisogna pure vedere se li portano sul tavolo queste cifre Virmone ti stavo vedendo titubante non so su ma quello che state dicendo è tutto giusto perché comunque tu hai ragione a dire che una cosa del genere può destabilizzare un giocatore che probabilmente è già destabilizzato però la Juventus ha un obiettivo societario ragazzi e gli obiettivi societari quelli economici cioè quindi non quelli sportivi sono anche quelli che fondamentalmente devi raggiungere il primo possibile se uno degli obiettivi societari è abbassare il monte ingaggi e lo hai già abbassato quest'anno tu non puoi avere questa mosca bianca che guadagna 12 milioni e non rende come uno che guadagna 12 milioni perché un conto è se ti do 12 milioni ma mi fai due gol alla partita o un gol e un assist a partita Vlaovic per una serie di motivazioni che sappiamo in queste ultime partite non ha reso da giocatore che vale 12 milioni di conseguenza c'è una discussione e la Juventus Fabio la Juventus deve programmare perché la Juventus che dovrà sostituire Danilo la Juventus te lo dico io la Juventus secondo me darà via anche probabilmente Fagioli lo possiamo dire che Fagioli lo darà via capito quindi è ovvio che loro si devono già muovere soprattutto nel momento in cui hai tra le mani una questione così calda cioè un giocatore che prende il doppio di quel del del secondo chi è il secondo che prende di più alla Juve adesso Danilo Danilo che pigliano sei più o meno credo abbiamo visto la scorsa volta Danilo quattro Beremer arriva cinque e mezzo cioè capito più del doppio quindi guadagna è ovvio che dal punto di vista aziendale te ti devi muovere e la cosa che puoi fare te perché sai Fabio il punto è questo tu ripeto tu hai dei conti da sistemare e non puoi dirti ma se io faccio sta roba gli incasino il cervello a Vlaovic tu non puoi fare sto ragionamento tu devi pensare ai tuoi conti e quindi l'unica cosa che puoi fare è dire oh te pigli troppo io ti tengo perché sei un bravo ragazzo ti alleni bene sei simpatico la butti anche dentro ogni tanto però abbi pazienza quello che c'era prima di te stava alla Philip Morris di calcio non capisci un cazzo ti ha fatto un contratto che non sei mai visto abbi pazienza cioè la Juve per forza deve chiedere sta roba la Juve per forza deve chiedere sta roba e poi capisco anche un Vlaovic che ti dice no perché mi devo abbassare lo stipendio perché mi devo abbassare lo stipendio quindi io io temo che questa cosa qua possa risolversi solo in un modo cioè che a giugno lo salutiamo se ha fatto una grande stagione io voglio sempre vedere queste offerte che fattono e arrivano no 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 ma infatti Fabio vedremo perché se lui ti fa la stagione da fenomeno le offerte arrivano se non ti fa la stagione da fenomeno ma da giocatore normale secondo me il minimo per non fare minus valenza io infatti io infatti il problema il mio con Kraft è questo che lui dipinge lo scenario per cui si deve guadagnare il rinnovo o le stesse cifre che prende oggi 30 gol 7 in Champions doppietta in Supercoppa e a quel punto a parte che ti arrivano veramente le offerte da 90 sono il primo ma è normale posso aggiungere una cosa a quello che ho detto posso aggiungere solo una cosa sì ma se non fa il fenomeno chi gli dà 12 nessuno nessuno ma infatti nessuno gli darà 12 milioni però lui il residuo che gli deve la Juventus saranno solamente 12 per un anno qualsiasi altro direttore sportivo gli dirà ok tu ne prendi 12 per un anno se ne vuoi altri 12 non vai da nessuna parte vieni da me per 3 per 4 anni che te ne do 8 quindi tu anziché guadagnare un anno 12 milioni e poi non sapere di che morte morire ne prenderai 8 per 4 32 per i prossimi 4 anni chiesa chiesa Liverpool guadagna meno di quello che prendeva da noi ragazzi chiesa a Liverpool se lo è abbassato lo stipendio perché perché o stava un anno a prendere quello stipendio lì e poi non sapeva che cazzo non sapeva nemmeno se avrebbe continuato a giocare a pallone oppure se l'ha abbassato ed è uguale quello che farà Vlaovic ragazzi esatto bravo Rabiot quanti ne prende al Marsiglia Rabiot ne prende 7 al Marsiglia no posso e infatti posso dire tra lo scenario Kraft e lo scenario Virmone io sono dallo scenario Virmone con una piccola differenza che questa formula contrattuale che mi sta descrivendo Federico è quella che per la fine troveranno non Vlaovic e un altro club ma Vlaovic e la Juventus questo è quello che voglio dire io che entrambi saranno messi quasi alle strette uno la Juventus perché ripeto ancora nonostante tutte le dicerie adesso che non segna poi tra l'altro è anche facilissimo fare questo tipo di discorsi poi se segna la doppietta col Genoa Vlaovic inceribile che sarebbe sbagliato anche per il discorso secondo me no sia Juventus che Vlaovic e io penso che entrambi le parti sono intelligenti io credo che Vlaovic sia più intelligente di Chiesa molto più intelligente calcisticamente e non di Chiesa verranno a patti e diranno oh possiamo volerci ancora bene facendo un compromesso da entrambe le parti cosa che oggi non avviene anche perché siamo inizio stagione vuole giocarsi le sue carte eccetera 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 secondo me ripeto il best non il best lo scenario più probabile per quanto mi riguarda poi sbaglierò è il rinnovo alla Juventus con cifre lauta resche ovvero ho dieci complessivi con i bonus eccetera eccetera anche perché immagino che la Juventus il prossimo anno giocherà la prossima Champions League e quindi anche la Juventus risolverà in modo giusto i suoi i suoi problemi o comunque le sue vicende finanziarie ci sono un paio di sub per ringaluzire le nostre invece casse allora ringraziamo Hirayama 23 mesi con Prime e no Sandro l'abbiamo già ringraziato non deve essere un Avelini lui lo sai da solo se io faccio lavoro e lo faccio male o faccio qualche cagata e non vado per quello che è e mi prendo e mi dicono porca troia mo mi cacciano poi Roby capito niente capito niente l'aspetto malissimo non ci posso fare niente io se scrivono male i messaggi non posso inventarmi le cose un attimino che dove sta dove sta la voglio ritrovare eccola qua eccola qua Ale tutto giusto ci raccontai Craft ma dimenticate una cosa non siamo il Bologna noi non dobbiamo allevare i giocatori per poi venderli e fare cassa prima si punta a vincere poi con Ossent Vlaovic il far crescere i giocatori è per vincere e non per fare plus valenza dice Roby ma è vero questo no ma io io sono d'accordo ma infatti questo discorso che fai tu Roby io lo faccio per Ildiz perché Ildiz quanto guadagna due milioni un milione e otto quanto guadagna Ildiz se da qui a fine stagione fa adesso ha rinnovato da poco quindi magari non è la stessa cosa ma poniamo caso da qui a fine stagione fa veramente una stagione eccezionale per numeri per che ne so dribbling colpi spettacolari assist e allora a giugno ti dico sai che cosa c'è io non ti voglio rifiuto l'offerta del del Paris Saint Germain da 80 milioni e ti rinnovo a 7 un esempio è un esempio uno scenario un po' folle ma perché ma perché Ildiz parte da 1 da 1 e 8 e arriva a 7 Vlaovic a 12 c'è già sì ma per tutti questi ma scusami scusatemi faccio una domanda pure la giro anche a Fede ma l'esperienza di quest'estate a sti calciatori non insegna nulla cioè non insegna che se tiri un po' troppo la corda poi rischi non solo di spezzarla ma che ci strozzi pure con la corda alla fine cioè voglio dire l'esperienza rabbiola l'esperienza chiesa come vi avete detto voi che arrivano a prendere addirittura il 70% rispetto a quanto è stato richiesto quest'estate non insegna che magari conviene a tutti la spalmatura l'abbeguamento al ribasso come cazzo la vogliamo chiamare ma lì dipende dal tuo procuratore Fabio lì dipende ma infatti io anche su questo su Vlaovic sono più tranquillo perché non c'è il ramadani non c'è la mamma di rabbiò chiaramente oggi ti dice io sono quello che ti farà 35 gol può anche dirlo di faccia tra l'altro lo attendiamo al barco tutti quanti noi come attendiamo al barco anche Tiago Motta che lo deve mettere in condizione di fare gol che sia chiara sta cosa perché posso dire la cosa sto discorso che stiamo vedendo su Vlaovic tutta questa settimana tutti questi dieci giorni qua faccio il santrino lo faccio io con l'altro allenatore avremmo detto eh ma non segna perché non tira in porta la Juve e diciamolo pure a sto giro ma perché non deve essere vero anche a sto giro perché non deve essere vero anche a sto giro non tiriamo in porta e deve segnare Vlaovic con la minchia e deve segnare tiriamo in porta perché Fabio il discorso che stiamo facendo non è non è cioè si è sul rendimento di Vlaovic ma il discorso che stiamo facendo è sullo stipendio di Vlaovic no Ale Ale non prendermi per il culo se Vlaovic non passa la settimana che ha passato ovvero questa con la prestazione brutta col Napoli con la prestazione brutta con l'Empoli con la partita col PSV in cui non fa gol poteva farne poteva farne non stiamo qui a parlare della vicenda Vlaovic e del suo contratto in questi termini non facciamo i disonesti ragazzi c'è il caso Vlaovic che sta riempiendo le nostre live dei giornali perché non ha segnato se avesse segnato Motta ha recuperato Vlaovic è un Vlaovic mai visto con questa Juventus ma di cazzo stiamo parlando dai ragazzi come Locatelli d'altronde come Locatelli diciamo noi però noi non devono essere giusti ragazzi se non ti reimporta non ti reimporta male Vlaovic se se Vlaovic fa male lo diciamo se però Tiago Motta non consegna a Vlaovic se la squadra intera non consegna a Vlaovic le palle gol dico male la squadra male Vlaovic c'è male Diago Motta ma perché non possiamo dirlo sì ma d'accordo c'è un ma enorme e ti ripeto quello che ti ho detto sempre l'altro ieri 12 milioni all'anno per la Juventus e in generale per la Serie A sono sono cifre da fenomeno è uno stipendio da fenomeno e in Serie A lasciamo e tralasciando Cristiano Ronaldo che è una cosa a parte fenomeni di quel tipo lì in Serie A non calcano i campi di Serie A da quando è andato via Paul Pogba allora se tu mi prendi un giocatore di 20 come era Pogba all'epoca 21 22 23 anni in ascesa clamorosa che ti decide le partite da solo che è anche una star tra virgolette mediatica tutte queste cose qui messe insieme mi fanno dire sì che mi fanno fanno sì che io ti dica pure ma ma 12 ma facciamo 13 di milioni all'anno essendo che Vlaovic a meno che da qui a fine stagione non lo dimostra essendo che Vlaovic non è quel tipo di giocatore lì perché è un giocatore forte probabilmente molto forte ma come può essere molto forte valorizzandolo e io ti faccio ancora il nome di Bonnì ma non perché adesso è quello che mi viene in mente ma ce ne sono tanti ecco come caressano ce ne sono tanti Vlaovic in questo momento è un giocatore forte probabilmente fortissimo se è messo in condizione di fare ma come ce ne sono tanti non è un fenomeno e lo stipendio che ha è da fenomeno questo che ci sia in panchina Allegri Tiago Motta Guardiola Ballardini o chi vuoi tu se ci fosse allora però io sono completamente d'accordo con tutto ciò che hai detto con tutto ciò che hai detto mi permettete di dire che se in panchina non fosse seduto in questo momento Tiago Motta ma fosse seduto quello che c'era prima noi staremmo parlando Juve non senni Vlaovic non senni Vlaovic non tocca troppo il pallone perché la squadra non gira bene di chi è la colpa è dell'allenatore lo possiamo dire questo lo possiamo dire ma questo lo possiamo dire possiamo anche dire che in questo partito non ha girato bene non ha tirato abbastanza in porta virgola però lo stipendio di Vlaovic è un tema da qui a giugno è un tema societario è un tema ma certo ma ripeto finché stiamo nel Vlaovic prende troppo per me pure se ne fa 30 di gol prende troppo sono d'accordo sono d'accordo il problema è che il tema viene scatenato nella settimana in cui viene sostituito perché poi quasi trovando una giustificazione a quella sostituzione che per me ripeto è una cazzata che per me è una cazzata il discorso che faceva il discorso che faceva prima Robby nell'adorazione a quel punto sì perché se da qui a fine stagione Vlaovic fa veramente quello che ti ho detto prima non mi fa elencare un'altra volta a quel punto lì subentra il discorso scusami questo è un fenomeno io perché devo volerlo cedere anche se guadagna 12 milioni io ho il 12 milioni un fenomeno che ce l'ho già in squadra un fenomeno è ottimo calciatore giocatore normale ci passa anche in mare di differenza Lautaro Martini io sono d'accordissimo tu l'altro giorno mi parlavi di 25 gol in campionato per me 25 gol in campionato non sono un'enormità per me 25 gol in campionato sono la normalità di un campionato normale di Vlaovic ma io se vendo Vlaovic che sono che sono che sono giuntoli io un calciatore da 25 gol in serie A in campionato ma sai quanti ne trovo va bene va bene comunque permettetemi lo dici no allora su sta cosa mi avete un po' rotto i coglioni mi avete veramente rotto i coglioni io non difendo nessuno io difendo la Juventus ok che sia chiara questa cosa qua poi ripeto ancora se il discorso la Juve non tira in porta quindi va tutto ok perché c'è un allenatore che mi piace Tiago Motta l'ho voluto io il primo nove che vi ho fatto l'anno scorso a dicembre quando la Juve stava ancora in testa al campionato nelle prime due posizioni era Tiago Motta spero che arrivi Tiago Motta a gennaio ho detto arriverà Tiago Motta e lo difenderemo e sono il primo a difendere Tiago Motta contro le merdi allegriane che sia chiara sta cosa però non dobbiamo manco passare all'altro estremo che allora dato che la Juventus non crea e non crea né per Godminers né per Vlaovic né per UEA né per Concei Sao allora va bene perché c'è Tiago Motta in panchina e non va bene così scusate questo discorso è ingiusto io sono sicuro che Vlaovic si riprenderà anche grazie a Tiago Motta e voglio aggiungere un'altra cosa che è importantissima noi abbiamo preso Tiago Motta anche non solo ma anche per risolvere il problema Vlaovic e non contrattualisticamente parlando perché quello che dice Kraft è giusto ma calcisticamente parlando calcisticamente parlando noi abbiamo preso Tiago Motta per mettere in condizioni questa squadra di esprimersi meglio anche offensivamente e sono certo che ci riuscirà posso dire smettiamola anche di fare il trattamento babysitter verso Tiago Motta perché non lo vorrebbe manco lui non lo vorrebbe manco lui è l'allenatore della Juventus ha delle responsabilità che si prende si prenderà come quello che ha fatto sabato con il cambio poi può essere giusto o sbagliato che sia smettiamola anche di difenderla a prescindere smettiamola anche di difenderla a prescindere tutto qua non ho altro da dire se Federico vuole dire qualcosa prego io sono d'accordo qua nessuno difende Vlaovic a me Vlaovic l'ho detto sta simpatico gli voglio bene ma se a giugno lo vendiamo io non mi strappo i capelli ma pure se lo vendiamo a gennaio io non è che mi strappo i capelli stiamo semplicemente cercando di fare un discorso oggettivo io ti rifaccio lo stesso discorso che ti facevo ieri Fabio per giustificare le cose che dico su Vlaovic e sulla Juventus in generale quando c'era Allegri nel primo ciclo noi ci lamentavamo di come lui facesse giocare troppo arretrato Di Bala che poi quando arrivava appunto negli ultimi metri non era lucido perché? perché partiva da centrocampo faceva la mezzala marcava pressava eccetera eccetera e dicevamo ma Allegri perché fai questa roba a Di Bala Di Bala non è quel giocatore lì Di Bala ti rende se gli fai fare queste cose ok? io oggi al 25 di settembre perché non posso dire Tiago Motta ma perché gli chiedi a Vlaovic di tornare? perché gli chiedi a Vlaovic di stoppare i palloni di giostrarli che non è capace? fagli fare il centravanti pure e basta ma io non ci vedo niente di male in un discorso del genere l'unica cosa l'unica differenza è che Allegri ha avuto tanto tempo quindi queste critiche ovviamente arrivavano anche magari dopo tanto tempo adesso Motta è qua da cento giorni quindi non è che si può come dire già fare il processo a Tiago Motta se sta sbagliando l'utilizzo di Vlaovic ma secondo me secondo me per quanto riguarda Vlaovic stiamo sbagliando il suo impiego tutto qua è un esempio è come è come se noi avessimo lo so che sono ridondante però ragazzi questa è la mia idea è come io la vedo è come se a suo tempo un qualsiasi allenatore avesse chiesto a Filippo Inzaghi di tornare a centrocampo e fare da raccordo fra il centrocampo e l'attacco ma il problema è di Inzaghi che non è capace a farlo e quindi Inzaghi è un bidone oppure è un problema dell'allenatore che gli chiede a Inzaghi di fare un mestiere che non è capace a fare poi qualcuno può dire ma nel calcio di Tiago Motta devi sapere fare tutto benissimo vendiamolo vendiamolo ma davvero ma dove sta il problema non è non serve è inefficace nel calcio di Tiago Motta vendiamolo non è inefficace facciamogli fare quello che è capace a fare punto tutto qua infatti secondo me il piano io ho questi piani finanziari oggi non ve li so descrivere perché non ne conosco il piano è far rendere la squadra bene tutta compreso Vlaovic affinché la Juve possa competere vincere anche grazie a Vlaovic e soprattutto grazie all'allenatore questo la chiosa finale per me è questa quindi per me la testa deve essere Genoa Juve in cui Vlaovic ne fa doppietta perché la squadra ha giocato bene compreso Vlaovic e compreso Diago e l'ha preparata bene questa è la chiave di tutto e spero che avvenga detto questo facciamo il taglio per Youtube ringrazio Virmone Craft e tra poco c'è una notiziella praticamente in ufficialità gli ultimi argomenti del caffè ciao Virmone ciao Craft ciao Youtube lasciate un like un commento attivate la campanella delle notifiche e la bianconina channel direttamente sul nostro server Discord ci vediamo tra un minuto e 08 invece per gli amici di Twitch a tra poco